Max Temporelli, una vita con la ricerca scientifica. Cosa si può dire, il binomio tra uomo e tecnologia e quanta follia c'è in questo? Il rapporto tra uomo e tecnologia è caratterizzato dalla follia, perché se per follia intendiamo tutte quelle visioni alternative alla natura, per cui i nostri avi, quelle che furono le scimmie o i primi homo sapiens, iniziarono questo rapporto con la tecnologia cambiando la storia dell'umano, che tra l'altro non esisteva neanche prima della sua nascita, come tutte le cose. Ma tutte le volte che noi intessiamo una relazione forte con la tecnologia, praticamente tutti i giorni, non sto parlando di quotidianità o di semplificazione della vita, sto parlando di esistenza, cioè noi tutte le volte che accendiamo un fuoco, che accendiamo una luce elettrica, che usiamo un microfono, che utilizziamo una vela per spostarci nello spazio, nel mare in particolare, cambiamo qualcosa di più profondo che non la nostra quotidianità, cambiamo la nostra esistenza, cioè stiamo dicendo oggi che probabilmente andremo a vivere su Marte, che le intelligenze artificiali sostituiranno parte della nostra attività culturale di conoscenza su questo pianeta. Ecco, questa è tecnologia. E tutte le volte che ci approcciamo la tecnologia, cambiamo la nostra natura. Però questo è tipico dell'uomo. Da un lato, per chi è conservatore, questo sembra follia. Spesso io vengo scambiato per un folle, spesso, quasi sempre, i grandi innovatori sono stati scambiati per i folli, dei matti, delle persone che andavano contro le cose naturali. Ma la cosa poi che stupisce me tutti i giorni è vedere come poi quelle cose che sembravano artificiali, quindi i folli poi diventano la natura e diventano la cultura della nostra specie. E quindi follia e tecnologia, umanità e tecnologia si mischiano in un percorso che spero essere per sempre e sempre virtuoso. A volte è inutile negarlo perché so che dall'altra parte, ma allora la bomba nucleare, e allora la sedia elettrica, e allora la pistola. Allora, è chiaro che ogni tanto i percorsi portano anche delle deviazioni non aspettate, o non volute, almeno da chi pensa bene, perché fa parte del gioco. Anche la natura produce delle brutture, non è che siamo tutti, però fa parte del gioco. La nostra coevoluzione con la tecnologia prevede anche delle brutture. È inutile negarlo, saremmo stupide a farlo. Però, mediamente, viviamo di più, viviamo meglio, conosciamo più persone, mangiamo meglio, viviamo più a lungo. Non possiamo non dire che quella follia che è l'usare la tecnologia non porta bene. Quale consiglio ci sentiamo di dare ai ragazzi, a tutti coloro che si interfacciano ogni giorno con questi strumenti? Tutti, non solo i ragazzi, anche tu, io, lui, questa è tutta tecnologia, il tuo vestito è tecnologia, i tuoi occhiali sono tecnologia, questo vegliero è tecnologia. Io sono arrivato con della tecnologia qua, altrimenti non sarei mai arrivato. Il consiglio è smettiamolo di pensare che la tecnologia è esterna a noi, la tecnologia è dentro di noi, nel senso che ci ha formato. L'umano non ha un rapporto con la tecnologia, l'umano è tecnologia. L'umano è nato con la tecnologia. Quindi, già cambiare questa prospettiva, a me fa ridere tutte le persone che dicono ah, ma la tecnologia è disumanizzante, la tecnologia è umanizzante, proprio. Cioè, noi siamo diventati umani nel momento in cui abbiamo usato la selce, il fuoco, gli utensili. Allora, come facciamo oggi a dire che disumanizza? Se è proprio colei che ci ha umanizzato, che ci ha reso umani, a meno che voi non crediate che siamo stati messi qua, come Adamo e Deva, da qualcuno di superiore. Siamo stati qua, miracolosamente, non so come, la vita è nata su questo pianeta, si è evoluta fino a un certo punto e abbiamo cominciato a scalfire le pietre, a accendere i fuochi e questa roba qua ha generato noi. Come facciamo adesso a dire che quella roba lì è male, che siamo figli di quella roba lì? Quindi, il consiglio è smettiamolo di pensare che esiste l'uomo e poi c'è la natura, noi siamo parte della natura e esiste l'uomo e poi c'è la tecnologia. Noi siamo un mix di queste tre cose, noi, il nostro organismo e questa biologia che ci circonda e questa tecnologia che ci circonda. E più sarà virtuoso questo mix e più saremo buoni umani. Grazie a te.